buona giornata il pensiero oggi lo prendo da un lavoro che possiamo e che viviamo nelle nostre case soprattutto in questo periodo in italia la spremuta la spremuta degli agrumi che può essere di aranci di pompelmo fatto con il fatto che tu devi spremere questo grumo devi spremere e perché possa uscire tutto il succo ed è proprio lì il nostro pensiero stare nelle cose in modo da non fare le cose in modo superficiale fare in modo che io possa spremere bene questo frutto per poter avere il succo necessario che questo frutto può dare di tutto suo l'importanza di stare nelle cose e non farle a metà l'importanza di stare nelle cose e non essere superficiali nella modalità con cui farle perché poi alla fine ci troveremo poco ad avere e forse anche non contenti di quello che gustiamo buona giornata il signore ti benedica grazie mille